Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38, che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano, quest'oggi parliamo di truffe informatiche, sì perché il Consiglio regionale insieme al Corecom ha promosso un convegno per fare fronte a queste tematiche e per affrontare il problema soprattutto alla luce degli anziani che sono spesso i più colpiti da questo tipo di attività criminale. Allora, vediamo cosa è emerso nel convegno in Palazzo del Pegaso. Fishing e sicurezza informatica sono temi sempre più di attualità con le truffe ai danni di cittadini e imprese che sono in grande crescita sfruttando la scarsa conoscenza dei pericoli che trovano gli utenti spesso impreparati. Per questo a Palazzo del Pegaso si è svolto un convegno sull'argomento con i maggiori esperti del settore. Una giornata di lavoro e confronto fortemente voluta da Consiglio regionale, Corecom e Feder Consumatori Toscana con la partecipazione della Polizia Postale e dell'arbitro bancario e finanziario. Noi abbiamo avviato proprio in questi mesi una campagna in tutta la Toscana anche di informazione Corecom Tour su quelle che sono le funzioni, le vocazioni e gli impegni principali del Corecom. In questo senso l'iniziativa di oggi è molto importante, quella promossa dal Consiglio regionale e da Feder Consumatori perché appunto dà voce fino in fondo a una delle problematiche principali che i cittadini, le aziende, gli utenti vivono quotidianamente che è questo appunto delle truffe telematiche, delle truffe telefoniche. In questo senso c'è un lavoro anche storico del Corecom, che il Corecom svolge con il Consiglio a Web che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Noi successivamente crediamo che sia importante appunto coinvolgere l'insieme dei soggetti da Toscana per una grande campagna di informazione in questo senso e noi faremo proprio un bando il prossimo anno quello Toscana e Spot dedicato proprio a questo tema, delle truffe telefoniche, delle truffe online in modo da premiare i migliori video che verranno proposti da un po' da tutta la Toscana. Importante in questo senso poi sarà che questi video vengano fatti circolare e questo noi chiediamo uno sforzo generale a tutti perché questa campagna di competenze digitali, di patronanza digitale è un tema centrale e noi dobbiamo dare gli strumenti a tutti i cittadini, soprattutto quelli più deboli e fragili, di avere gli strumenti per non incorrere in queste truffe. I rischi principali sono soprattutto i malware, statisticamente anche dall'ultimo rapporto Clusit di ottobre 2023 sono, diciamo, percentualmente gli attacchi che vanno più a segno. I ransomware sono dei virus che criptano il contenuto di un computer o di una rete e per decriptarlo chiedono un pagamento in denaro, normalmente in moneta virtuale. Al secondo posto poi abbiamo gli attacchi DDoS che sono degli attacchi che tendono a far crollare il funzionamento di un sito internet e renderlo inservibile e quindi con notevole danno ovviamente per il titolare e anche per gli utenti che se ne servono. E al terzo posto, ma non distaccati di molto, sono, c'è il phishing, il classico phishing che si realizza però con modalità veramente all'avanguardia. Normalmente, diciamo, sono tre modalità in una. Arriva prima l'SMS di phishing con un link malevolo. Cliccando sul link si apre un falso portale normalmente di un istituto bancario dove vengono inserite le credenziali di accesso. Però, per completare il tutto, si riceve una chiamata di un falso impiegato di banca per ottenere i codici OTP necessari per concludere, diciamo, il bonifico e la truffa. Pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia e non ce n'è mai abbastanza. E quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti perché ormai non possiamo fare a meno degli strumenti digitali per le nostre comunicazioni, per i nostri acquisti, per la nostra vita di relazione. E ne facciamo spesso un uso inconsapevolmente incontrollato. e questo ci espone a dei rischi gravi che è bene appunto conoscere per poterli prevenire. Parliamo anche di giovani e giornalismo perché in Palazzo del Pegaso è stato presentato Generazione News, ovvero il giornale firmato dagli studenti toscani. Nasce un nuovo giornale online con la voce degli studenti toscani. Generazione News è un progetto che parte dalle consulte provinciali e dal Parlamento regionale degli studenti per essere poi recepito dall'Assemblea Toscana, dall'Ufficio Scolastico Regionale, dall'Ordine dei giornalisti e infine dalle scuole con l'ISS Sassetti Peruzzi di Firenze come capofila. Geraldina Fichter sarà direttrice responsabile della testata, il cui numero zero è stato presentato in Consiglio regionale. Per loro è uno strumento intanto per esprimersi e per tirare fuori la loro voce che in questo momento è veramente la cosa principale da augurarsi per loro, più di qualunque altra cosa. È un momento in cui il rischio è che si chiudano completamente in un'energia entropica e quindi esplodono all'interno. Quindi è veramente fondamentale che gli vengano dati gli strumenti per farsi ascoltare, per elaborare quello che loro stanno vivendo che è tantissimo e oltre a questo è anche uno strumento secondo me per rapportarsi con il mondo, per interpretarlo, per spiegarlo, per imparare a comunicare, quindi poi nel futuro per imparare a vivere, a lavorare, a fare qualunque cosa. Il giornalismo è una forma di... per loro è quasi uno strumento per fare politica, cioè per entrare in comunicazione fra di loro, per coinvolgersi, per coinvogliare le energie. Quindi l'hanno scelto loro, l'hanno scelto loro e quindi questo ci deve far riflettere. Abbiamo sempre detto di dare più voce che a meno voce. Attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo. È uno spazio libero, è uno spazio aperto, è uno spazio di confronto. È un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro. È un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'ufficio scolastico regionale. Viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie. Poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile. Questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo. A loro un grande in bocca al lupo e penso che ogni volta che si costruisca un giornale, un luogo aperto, si costruisce libertà e noi abbiamo bisogno di vivere in un mondo libero. Spazio anche all'arte e alla cultura in Palazzo del Pegaso con un convegno, una guida speciale dedicati entrambi a Luca Signorelli, pittore rinascimentale Aretino che ha avuto grande impatto in tutto il movimento e si sono scoperte pure le sue tracce, i suoi sentieri lasciati non soltanto in Toscana. Ecco quanto è emerso. Un convegno in Palazzo del Pegaso per celebrare il maestro cortonese Luca Signorelli, protagonista del rinascimento in Toscana a 500 anni dalla sua scomparsa, l'appuntamento si è tenuto a conclusione della mostra al Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona curato da uno studioso di prima grandezza Tom Henry dell'Università di Kent tra i massimi esperti al mondo dell'artista Aretino. Siamo qua anche per rappresentare quello che ha fatto il Comitato Nazionale sulla mostra del quale sono onorato di essere il presidente e di aver legato una grande squadra dalla regione toscana al Comune al Ministero abbiamo ottenuto una mostra molto importante grazie al nostro Museo Maiche quindi alla mostra che è stata preparata ed allestita all'interno dello stesso con 36.000 ingressi grande successo internazionale e anche grazie al Diocesano al Museo Locale della Diocesi perché vanta opere importanti sul Signorelli chiaramente la mostra non finirà a conclusione dell'allestimento del Maiche ma proseguirà con una serie di itinerari e quindi siamo qua per rappresentare gli stessi all'occasione del Cinquecentenario dalla morte di Luca Signorelli indubbiamente ha permesso alla città di Cortona di accendere i riflettori su questo suo importantissimo concittadino con da subito l'idea di non fermarsi solo all'esposizione per quanto sia stata straordinaria questa monografica internazionale su Signorelli che si è conclusa ad ottobre ma di affiancarle da subito come dire una costruzione di itinerari e di suggestioni che in qualche modo potessero rimanere più a lungo sul territorio che in qualche modo fossero il famoso risultato per sempre e quindi sono stati attivati da subito parallelamente con il catalogo scientifico della mostra una guida agli itinerari di Signorelli che ovviamente ha Cortona come fulcro e un'idea per i turisti ma non solo di un percorso che rimanesse intorno ai 70 km e che abbraccia i centri vicini a Cortona in cui è ancora comunque possibile ammirare l'opera di Signorelli questo perché perché volevamo appunto dare spessore e rilievo non soltanto alle opere arrivate da tutto il mondo in occasione della mostra ma tutto quello che il nostro territorio conserva quotidianamente che è un patrimonio ricchissimo che appunto va principalmente a rinteressare la Toscana ma anche territori di confine per noi estremamente significativi come l'Umbria questa dorsale in qualche modo che da Sansepolcro ritorna verso città di Castello fino ad arrivare appunto a Orvieto e Perusa Il Consiglio regionale ha ospitato anche la presentazione di un libro dedicato a Villa Vittoria celebre residenza fiorentina oggi trasformatasi in centro fiere e congressi Villa Vittoria residenza fiorentina costruita a fine ottocento per volere degli strozzi ampliata inizio novecento e acquistata dal conte Alessandro Contini Bonacossi che la intitolò alla moglie è la protagonista dell'omonimo libro presentato nella sala freschi di Palazzo del Pegaso la villa è oggi un importante centro fieristico e congressuale per la realizzazione e la disposizione degli arredi furono scelti due tra i più importanti architetti e designer del secolo scorso Gio Ponti e Tommaso Buzzi nel volume a cura di Firenze e fiera in collaborazione con l'archivio di stato e le gallerie degli uffizi si dà particolare rilievo alla figura di Vittoria Bonacossi i cui diari sono testimonianza di una vita dedita al collezionismo siamo molto grati alla regione per averci consentito la presentazione in questa bella sala grazie al presidente Mazzeo anche perché poi Villa Vittoria è un immobile della regione toscana quindi presentarlo qui ha un grande valore noi abbiamo cercato di repercorrere la storia le origini la cultura gli arredi che caratterizzano questa bellissima villa conosciuta soprattutto nel mondo congressuale perché vi si tengono dei congressi importanti che sono apprezzati da tutti e con questo libro abbiamo voluto fare un passo in avanti per poter mettere a disposizione sia del mondo della cultura sia del mondo dell'economia che anche ovviamente dei nostri maggiori clienti un prezioso cadeau che può essere consultato per vedere davvero quanto di bello è stato creato in questa villa dal fine ottocento fino ad oggi un volume che cerca di restituire e far conoscere la storia di questo immobile ma anche più anticamente la storia dei territori su quali insiste e terreni su quali insiste e le famiglie che sono state proprietarie di quell'edificio quindi i Contini prima di Firenze Fiere sono stati gli ultimi proprietari e a loro volta hanno una una grande storia da raccontare non ultimo il fatto ed è la ragione del coinvolgimento delle gallerie degli uffizi che una parte della collezione Contini Bonaccossi fu lasciata allo Stato Italiano e alla Galleria degli Uffizi e si può vedere appunto tutt'oggi all'interno del museo questi dunque alcuni dei principali temi affrontati in Consiglio regionale l'appuntamento con la trasmissione la voce del Consiglio come sempre è per la prossima settimana su RTV 38 grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci a presto